BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMB Saluto Paolo Scalis, Lello Scisci, Tonini820, MSA Ender, LGBGFage, VSGVacca, ManuelinoCrashGames Mi raccomando se anche tu vuoi ricevere un saluto nell'angolo dei saluti non devi fare altro che usare il mio codice creatore e fare lo screen del tuo shop E metterlo come post su Instagram taggandomi per favore non mandatemeli per messaggio privato oppure per storia E bacio tu per i miei benvenuti in questo video come sempre sono Tecnoide e siamo tornati ragazzi nel tubo viola con un sacco di sub per fare questo minigioco Oggi andremo a giocare utilizzando solamente i robot che sono usciti ovvero quelli della season 10 In pratica faremo tipo come Gundam vi spiego velocemente le regole di questo minigioco Andremo a giocare in un server privato giocheremo tutti a coppia grazie mille SR22 che dona per poter salutare sua mamma e dire ciao mamma bella Non possiamo usare nessun'arma per fightarci dovremo usare solamente il robot sarà una battaglia reale normale Ma possiamo usare solamente i consumabili possiamo usare solamente cose che danno vita e scudo ciao mazzi Mamma mia un regalo da parte di Leo che dice ciao mamma che anche lui utilizza questo metodo per salutare sua mamma Mi raccomando profe dobbiamo cercare di beccare il robot appena cade giù eh Eccone uno a palmetto eh cerchiamo di prendere quello Aspetta no aspetta che ce n'è uno Esatto bravo 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 aspetta che ce n'è uno che è sotto di me Eh ce n'ho uno accanto a noi Grazie mille per i miss Andy Lo prendo per te questo Andy Vuoi salutare Massi Bella Massi saluto Massi da parte di Andy Oh ce l'ho qui ce l'ho qui A fianco a me me lo stanno per pigliare No se lo son presi Madonna profe Ah No Ricordatevi che non ci possiamo picconare L'hanno distrutto Ma si Ok Eh si aspettiamo il prossimo aspettiamo il prossimo No se lo son già presi Guarda guardalo che sta trucidando Leo No 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 Dici Eh ma Sì sono gli overbord Vai 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 Non è uno Vallo a prendere Vado Vadi Oh non ci sono mai salito sul robot eh Ma sta sopra o sotto Ehm penso che si sopra Eccolo eccolo Sotto guido Sì sotto guido Allora tu fai il salto e clicca a vivo Certo Ah c'è uno che mi vuole entrare Che senso E vieni qua vieni qua che c'è uno che mi vuole entrare Vai Vai Spara spara Sì E' qua E' qua sotto Eh ma no se viene sotto non posso è tanto Ti devo allontanare Eh sto andando Tu spara lì Mamma mia che bordello fa Sì sì sparo io Vai Mamma mia Ci ho una mira Oh ne sento uno Uh oh oh Bopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopimp Try Go go power ranger Oh Pushatelo, pushatelo Mamma mia che lo sto bombardando Guarda, guarda Puscialo, puscialo Puscialo, puscialo che non c'è ancora visto Vai, vai, vai Go, go Power Ranger Rimani sempre a muoverti, eh Guarda, bom, 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 bom A chi lo dici Vai, vai Vai, spostati, spostati Via, 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 via Bravo, profe, eccoli Vai, uno è andato Attenzione che ce n'è uno qui Pestalo, è tuo, è tuo, pestalo Pestalo come un insetto, vai Vai, è tuo, è tuo Non faccio niente io, vai, vai Ok, aspetta Dov'è? Qua e qua Vai, vieni, vieni, vieni Mamma mia Salgo Ui Guardate che si cura il robot Oh, ne sta atterrando un altro Andiamolo a rompere No, ci prendiamo quello e rompiamo questo Bravo, vai, vai, vai Eccolo Oh, attento Attento che sotto di noi Guarda che c'è un tipo Vai, corri, corri, corri No Scendi Vai, sali Vai Vai Sali Salgo Vai, spacca Aspetta che spacco questo Sì, sì, arrivo Vai Andiamo I tipi Eccoli Mamma mia Vai, puscialo, puscialo Sì, sì, l'ho visto Schiaccialo, è tuo Io No Perché sono sceso Sali, sali No Non ci credo che ha fatto Oddio No Però, regà Ha barato Non sapevo mica io che si poteva fare sta cosa Eh, ma c'è un tipo sull'altro robot No No, profe Non ci credo Hanno fatto gli infami Hanno usato La ballerina Volete fare con la ballerina? Vai Ora vale anche la ballerina Vale Grazie mille, The Kingster Grazie mille per l'abbonamento Grazie mille per l'abbonamento The School Grazie mille Eccolo, vai L'ho visto Un altro È più vicino l'altro Ho fatto una cacchiata Mi sa che non riesco ad arrivarci Sei il primo No Non ce la faccio Scappo Ah Cadono altri robot Uno è da me Mi sta cadendo in testa Piglialo Che bello Ok da noi Tech sali Chi, 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 chi Un tipo? Eccolo, eccolo No, è salito sopra lui Vabbè Stai così No Ok Ok è sceso, è sceso Oh Vedi che lo risparmio No No, 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 no Non ucciderlo questo Lo risparmiamo Ehi Voleva rubarlo eh No, non penso Oh c'è un altro robot Profe Profe Facciamo il cambio Il cambio Vai, vai, vai Luce Vai Vai Eccoli Eccoli Vai, vai Puscia, puscia, puscia Salta Vai, vai Mamma mia che mira che c'ho Z Distrutti eh No Salta, salta Bravo Spostati Salta Vai, fatti Oh c'è Ho visto un coso Sali, sali, sali Ho visto Un lama Aspetta che spacco questo Vedi è fermo Dov'è? Dov'è? Eccolo Corri lì dietro Corri lì dietro Corri lì, corri lì dietro Allora tu salta Tu salta Bravo Aspetta Vai, bravo così Bravo così Bravo così Bravo così Aspetta Aspetta Vai salta Così No E lo dovevi dire prima Sì lo so Sì lo so Sì lo so Però pochi Vai, ora è nostro Guarda Boh, 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 boh Vai, 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 vai Bravo salta Salta, salta, salta Ora è morto È morto È morto Guarda Spostati Vai Vai, addios Vai, morto Non ce l'aspettavo Ce le ha lui ste ballerine? No, niente E let's get Ce ne sono lì Ce ne sono tre Vai, saltali addosso Un altro robot Dov'è? Non lo so Lo stanno sparando Salta, salta, salta Facciamo giù E' questo? No Ecco Te l'avevo detto Z Allora Io sono sempre su No, 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 no Allora Sono sempre su io O io sono sempre su con lui Bene Sta arrivando un altro robot Eh lo so Eh lui sta andando Da quello No, no, è impossibile Oh, è sci No, brutto infame che è Brutto infame che è questo E prima di dire che siamo arrivati fino al video di questo video Come sempre vi do di lasciare un pollicione su Iscrivetevi al canale Passate nel tubo viola ragazzi Se volete anche voi partecipare ai minigiochi E detto ciò per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Bella play ready Iscrivetevi al canale Grazie.